Scusami Paolo, io sono vicino a due colonne che contano per Cicomania. Io mi sento amareggiato poiché con questa divisa io ho tradito la mia società con cui vi alleno e che condivido le feste, però saprò pentirmi in una maniera offrendo una cena. E' un'altra cosa, si è impegnato, si è impegnato, si è impegnato, si è impegnato. E' lei che dichiarazione c'è da fare? Dica qualcosa. 33. La tua tetto, dai, o l'andiccio? E' un po' di pesciata, vai. Ma che mi fai una pesciata? Aspetta, andiamo insieme. Allora, la piantola riva, tutto è cinque, un cuore si secca. Non ho pesciata. Si secca la piantola riva. Non avevo capito, vai vai. Vabbè, poi ci troviamo in griglia, dai. Si sta dopando, eccolo, vai. Ripreso proprio ormai. Ok, yogurt al caffè. Troppo leggero. Oh, a sinistra, qua l'è. La tenete a scaricare il topic. Vicenzi sta in a sinistra. Eccola qua. Eccola qua. 303.514. Allora, stiamo a posto oggi. Per ultimi, eh. Lasciamo le glorie. Esatto, vabbè. Ma io vi vado a posizionare. E' logico. Perché qualcuno mi può scappare avanti. Allora, attacchino. Allora, attacchino. Come? Ah, che è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Una dichiarazione. Come mai è così? È così affaticato? Vediamo. Dai, dai, dai. Tira, tira, tira. La punta, Gianni. La punta. Dai, dai, dai. Dai, tira. Tira, tira, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai. Dai. Ti stupi. Romagna, vi dimenticare la Pasquana. Massaggio, massaggio, massaggio. Dica qualcosa Di qualche cosa Non riesci nemmeno a parlare Massaggio di un po' sotto Massaggio Massaggio Aspetto di palla Massaggio Things haven't been the same Since you came Into my life You found a way To touch my soul And I'm never ever Gonna let it go You get periods Which I never использ To save Until I learned To not myself I was never ever Grazie per la visione!